C'era un solo posto dove mi sentivo al sicuro. Con lei. Ti insegno, amore in urdo? Sì. Non si dice solo in un modo, ma almeno in due o tre. Ok, ok. Uno è... Ishq. 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 Brava. Poi c'è... Piar. Piar. Non è niente male. Davvero? Piar. Le hai ditte a qualcuno queste parole? Ishq. Non è la prima volta, vero? Mohabbat. Mohabbat. Non posso credere che non ci siano più. No lo stesso. Rimaccare. Non c'è... E' pazzesco.